Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Ben 170 veicoli e 240 persone controllate nel corso dei posti di blocco disposti dal questore di fermo Rosa Romano. Il risultato degli ultimi controlli è stato di 5 sanzioni, di cui due persone pizzicate fuori dalla provincia di Ancona, sottoposta a restrizioni di spostamento fino a sabato, senza motivi di lavoro urgenza. Lido Trearchi, Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio sono state battute a tappeto dagli equipaggi della questura, da quattro pattuglie del reparto prevenzione crimine e dall'unità cinofila della Guardia di Finanza. Dopo la giornata di controlli, la squadra mobile ha notato uno scambio sospetto tra un'auto e un passante. La vettura si è allontanata velocemente, ma gli agenti sono riusciti a prendere il numero di targa. Nel frattempo l'acquirente, fermato, ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro che aveva in mano. Era un grammo di cocaina che ha detto di aver pagato 80 euro da uno sconosciuto. La polizia però, in base ai dati della targa, ha raggiunto l'abitazione del guidatore, un 50enne albanese residente a Porto San Giorgio. Il pusher, alla vista delle divise, ha tentato di fuggire scavalcando una siepe, ma è stato bloccato dai poliziotti che hanno trovato nel portafogli la somma ricevuta per lo spaccio. In casa, invece, nascoste in un barattolo di vetro all'interno di un comodino della camera da letto, c'erano altre 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Un totale di 25 grammi che gli sono costati la denuncia all'autorità giudiziaria. A Porto San Giorgio, accertamente anche alla stazione ferroviaria, dove sono stati identificati alcuni giovani in gruppo e successivamente nelle fermate degli autobus di linea, che negli ultimi giorni sono stati teatro di episodi anche violenti. A Porto San Giorgio